Tra il suo compito e la tolsa A seconda guerra mondiale E' una paga minciuta e lo scudetto E' una partita contro A Fiorentina 1-0 con la Firenze L'1-0 polo di Egidio di Costanza Napoli 28 punti primo in classifica Tra il suo compito e la tolsa A seconda guerra mondiale E' una paga minciuta O scudetto l'ultima mattina Contra Fiorentina 1-0 polo di Egidio di Costanza L'1-0 polo di Egidio di Costanza E' una paga minciuta A seconda guerra mondiale E' una paga minciuta E' una paga minciuta